In rete, la Virtus, al primo minuto. Chi l'ha fatto il gol? Michele? Michele l'ha fatto? Ah, Mata, ha segnato il nostro goliador, il nostro... Mata Teidi, numero 11. Ecco, continuiamo la formazione. 11, Mata Teidi, che è anche il capitano che ha realizzato anche la rete. Il numero 12, Massimini Lorenzo, numero 13, Caporale Enrico, numero 14, Luca, numero 15, Masciarelli Fabio, numero 16, Caporale Emanuele, numero 17, Dancelo Nicolò, il numero 6 è Malvone Gianluca. Un benvenuto a Malvone e il suo sordio, la Virtus Castelfrentano, proveniente dalla Virtus Lanciano. Poi abbiamo il numero 18, Sink Karan. Dopo abbiamo Ferretti Filippo, che funge da guardalinee. L'allenatore, mister Di Felice Gabriele, addetto all'arbitro, il cavaliere Carlo Iocco, il dirigente accompagnatore idem, cavaliere Carlo Iocco. In veste di massaggiatore, il presidente e responsabile dell'area tecnica della società, il signor Tucci Renato.